La conoscenza approfondita come l'unico modo per comprendere la realtà. Il metodo all'inaugurazione dell'anno accademico della Luiz lo invita a rappresentante degli studenti. Il presidente Maltarella lo riprende ma allarga il campo della formazione e aggiunge è quello che serve all'Italia. Capacità di studio, di approfondimento, di rifugia dall'approssimazione, dall'improvvisazione, elementi di cui il nostro paese ha grande bisogno. Il capo dello Stato ascolta la lezione magistralis della scrittrice traduttrice Giumpa Lairi sul mito di Narciso e nel personaggio vede le tendenze di alcune società contemporanee che specchiandosi si chiudono e si annullano. Un insegnamento, anche per i nostri tempi, dunque emergono tentazioni di chiusura in se stessi per individui, per gruppi sociali, per realtà nazionali e che richiedono una riflessione adeguata storicamente all'altezza del momento in tutti i paesi. La chiave per l'apertura verso il mondo, spiega Mattarella, è la cultura, non quella umanistica o scientifica, ma l'unicità di un patrimonio culturale che, come la traduzione, abbatte le frontiere della lingua, collega in realtà ai mondi diversi che poi nella lettura finiscono per non essere così lontani.